Come ti senti per questo torneo? Le qualificazioni sono andate bene, oggi ho vinto una bella partita, quindi spero di dare il mio meglio. Prospettive per questo torneo? Spero di andare il più avanti possibile. Ok, come ti sei trovata a Monteroni? Non c'ero mai stata in questo circolo, ma è un bel circolino piccolino, ma si sta bene. Perfetto, poi speriamo di rivederci nei prossimi giorni. Bocca l'hovo.